Buongiorno Friuli anche da parte della redazione sportiva in questo mercoledì 7 settembre 2016 un mercoledì che pian piano ci riavvicina anche a piccoli passi ma decisi verso la sfida contro il Milan di campionato la notizia del giorno è però quelle che sono state le prime parole in italiano o meglio non in italiano parlate in Italia da parte di Sven Kums per l'italiano ci sarà ancora tempo però è ovviamente lui il protagonista della giornata il nuovo acquisto il centrocampista belga come si vede anche dalla foto notizia del messaggero Veneto che ha dedicato molto spazio al nuovo acquisto dell'Udinese ecco il belga Kums l'Udinese trova il suo regista il neacquisto ha detto darò ordine alla squadra apriremo ovviamente un'ampia pagina dedicata proprio a Sven Kums che qui palleggia nella splendida cornice del nuovo stadio con il pallone della Serie A una qualità che abbiamo già visto tracimare nel corso dell'amichevole contro l'Olimpia Ljubljana e che siamo pronti a vedere anche contro il Milan perché ha detto Sven Kums di essere assolutamente già pronto proprio per la prossima gara di campionato prima di addentrarci nelle pagine interne del messaggero Veneto vediamo anche subito come anche i quotidiani nazionali nello specifico la gazzetta dello sport dia risalto a quella che è la storia di Kums Kums alla regia va un professore e mi manda Valem aiuterò i giovani questo ha detto Sven Kums che parla come gioca lucido preciso attento il regista belga arrivato in prestito dal Ghent via Watford è il giocatore che serviva all'udinese mi rendo conto di essere arrivato in una squadra giovane che il mio compito è quello di aiutare a giocare meglio gli altri nella foto prima si erano scelti i palleggi qui viene evidenziato quello che sarà il suo nuovo numero di maglia 88 come la classe vale a dire 1988 quella che è l'anno di nascita di Sven Kums giocatore che darà sicuramente tanto ordine alla retroguardia e che soprattutto aiuterà i giovani questo è insomma il suo obiettivo in questa nuova avventura italiana in questa avventura bianconera con la maglia dell'udinese tornando invece a bomba sul messaggero veneto andiamo a vedere quello che è stato lo spazio ovviamente più ampio dedicato a Sven Kums Chuck si gira è il titolo scelto dal messaggero veneto con il regista alla Pirlo questo ha detto Kums io regista alla Pirlo sono qui per far funzionare la squadra le responsabilità mi piacciono ha detto Sven Kums che appunto non si sottrae a quello che sarà il suo ruolo importante proprio nell'udinese il DS Bonato ha presentato il nuovo regista bianconero arrivato in extremis dal Ghent con la formula del prestito questo appunto quanto ci dice Massimo Meroi che poi dice Sven Kums è uno di quei giocatori che alzano il livello di gioco degli altri l'avevamo sottolineato ieri nell'analisi della rosa bianconera lo ribadiamo oggi nel giorno della sua presentazione il motivo il regista belga sa di essere un giocatore importante lo ammette ma senza sbandierarlo ai 4-20 emblematica in questo senso la considerazione del direttore sportivo Nereo Bonato che lo affianca al tavolo delle presentazioni assieme alla gentile traduttrice Valentina Milan si chiama come il nome della squadra contro cui esordirà e Bonato ha detto è assolutamente un leader e la sua capacità di prendere in mano il gruppo emerge subito sentiamo proprio al volo le parole di Bonato anziché leggerle le parole proprio del DS con cui ha presentato Sven Kums il giocatore che farà la fortuna del centrocampo bianconero è lui il primo a scommetterci noi sappiamo le qualità e le caratteristiche dei giocatori sapevamo il numero di tesserati a nostra disposizione volevamo fare delle verifiche sul campo come abbiamo sempre detto una volta volevamo vedere quello che erano le qualità dei giocatori dei nostri tesserati le qualità complessive della squadra e credo che dopo un mese di lavoro effettivamente si era percepito che servivano determinate caratteristiche e che Sven veramente andava ad averle in maniera totale e quindi si è iniziato a fare questo tipo di trattativa che non è stata rapidissima e quindi sicuramente siamo arrivati a questo periodo quindi però ripeto tempo ce n'è credo che la sua velocità di inserimento è molto ampia quindi secondo me in tempi brevi lui riesce ad inserirsi in maniera completa all'interno del nostro organico ripeto dopo anche le qualità morali che lui ha dimostrato sicuramente fanno sì il suo inserimento rapido anche grandi qualità morali vediamo però la sua scheda Sven Coombs belga 28 anni 1,76 per 62 kg ruolo regista valutazione 10 milioni questa appunto la sua alta valutazione le squadre in cui ha militato Leers, Kortik, Herrenwen, Lozulte, Waregem poi il Ghent e adesso Rudinese una presenza nell'Under 21 insomma nazionale diventa difficile perché si sa ci sono tantissimi campioni della nazionale belga campione del Belgio nel 2014-2015 ha vinto anche una supercoppa ha vinto il miglior giocatore in Belgio nel 2015 è stato anche inserito nella top 11 della Champions League della fase a gironi dell'anno scorso insomma un talento debordante pronto ad essere visto in campo il sogno italiano sempre sperato di arrivare in Serie A il vostro è un torneo di alto livello sarà una stagione gratificante per me le impressioni sulla squadra il livello tecnico mi pare molto alto ma questo non basta servono anche grandi motivazioni e qualità tattiche un maestro per Balic questo è il sottotitolo il Croato è un buon giocatore ha una tecnica eccellente assomiglia a Pirlo e speriamo tutti assieme di farlo crescere questo si è detto di Balic che tra l'altro con Kums in campo sabato è stato schierato mezzale ha fatto anche una buona seconda frazione di gioco ma si sa può essere una buona chioccia Kums perché ha davvero tanta tantissima qualità proprio da far vedere Sven Kums che vedremo se sarà già in campo nella gara contro il Milan Iachini continua a provare l'albero di Natale nel primo allenamento della settimana il tecnico ha insistito sul 4-3-2-1 oggi tornano i nazionali non tutti ma soltanto alcuni comunque si cominceranno a rivedere i nazionali tra l'altro ieri apparizione anche per Silvan Wittmer ci fa piacere contro il Portogallo nella vittoria anche un po' sorpresa della Svizzera proprio contro i campioni d'Europa qui Milan caparra cinese poi ci si butta sul mercato con 350 milioni in tre anni adesso ovviamente a noi interessa il brevissimo periodo ma nel frattempo ieri ne sono stati versati 85 Li Yong Hong ha detto riporteremo il club ai vertici mondiali questo è l'intento da parte del gruppo cinese che ha rilevato il Milan insomma una data storica perché il Milan non è più di Berlusconi ormai c'è praticamente l'ufficialità c'è poi il personaggio perché il migliore in campo forse, anzi senza forse della gara con l'Olimpia l'Ubbiana è stato lui oltre a Kums si era il Theroux torna Monsieur Goal Theroux vuole sfatare il tabù Milan ce l'aveva insomma un po' detto l'attaccante è pronto al debutto dopo i due turni squalifica il nuovo modulo può fargli trovare la prima rete ai Rossoneri una delle rare squadre forse l'unica a cui si rilterò non ha segnato ancora i gol questo è un po' il riassunto della sua statistica con le presenze i gol 128 presenze 30 gol con il Chievo 88 presenze 25 gol con lo Charleroi stesso numero di reti trovate finora con l'Udinese ma in meno presenza 77 noi gli auguriamo di andare immediatamente a 26 poi ci sono i 10 gol con la Steaua di Bucharest poi Lange e l'Underlecht tra l'altro nell'Underlecht abbiamo scandagliato è stata proprio come dicevamo questa unione tra lui e Coombs si sono incrociati per un anno all'Underlecht anche se Coombs era ancora un giovane della primavera e si allenava soltanto ogni tanto con i compagni ma tanto bastato a Cyril Theroux per già fargli capire allora che sarebbe stato un talento Theroux è sempre andato in doppia cifra nelle prime due stagioni all'Udinese in cui è figurato tra i giocatori più presenti in campionato con 73 presenze in due anni rispettivamente 10 reti nell'annata in cui c'era Stramaccioni in panchina 11 reti l'anno scorso con questo record battuto di 1 anche se parte con due giornate di handicap diciamo così Theroux vista la squalifica vuole però arrivare a 12 chissà se ci riuscirà noi glielo auguriamo ovviamente con tutto il cuore perché ci sa che possa mettere a segno un altro record parla anche Bruno Pizzul che nella sua rubrica area di rigore parla proprio di Sven Kums e dice questo belga può essere l'uomo chiave questa è la lettura da parte di Bruno Pizzul non è ancora possibile articolare alcun giudizio che abbia un minimo di credibilità ma credo si possa coltivare alla luce di quanto si inquintra visto o perlomeno la speranza che nasca una squadra abbastanza competitiva e questa è la speranza da parte proprio di Bruno Pizzul speriamo che possa avverarsi sicuramente mentre la regia mi propone un risultato maturato ovviamente poche ore fa nella notte con Peñaranda che ha giocato titolare nella formazione del Venezuela contro l'Argentina colpisce il risultato 2 a 2 quindi applausi alla formazione venezuelana 90 minuti se non erro per Peñaranda perché conoscendo un po' l'Ivscore non ha la freccina del giocatore uscito ha giocato e segnato anche Martinez però a noi interessa ovviamente la presenza di Adalberto che quindi ha fatto 90 minuti con l'Argentina giustamente prima parlavamo di Widmer che ha giocato mezz'ora nella gara contro la Svizzera sono gare importantissime Portogallo Argentina però tutti pronti a fare molto bene un focus veloce di basket poi parliamo anche di nazionale la GSA punta i playoff coach Lardo si a tre stagioni il presidente predone tra programmi obiettivi sabato presentazione in piazza speriamo di poter fare un regalo di Natale ai tifosi vale a dire il Carnera dal 23 dicembre questa la nuova data individuata si parla poi di nazionale Verratti e Immobile questa è già l'Italia di Ventura i due ex pescaresi protagonisti del successo con Israele la nota negativa sono gli errori difensivi di Chiellini tra l'altro particolare che l'Albania ha battuto la Macedonia praticamente nei 14 minuti che sono stati disputati dopo la sospensione si stava sull'1-1 all'Albania sono bastati è davvero soltanto 14 minuti per mettere a segno il gol vittoria Ventura ha detto quando nel mese di ottobre affronteremo la Spagna avremo nelle gambe 4 partite in più di campionato e allora lì si comincerà a vedere qualcosa di più concreto passiamo ai giovani Under 21 basta solo un ultimo sforzo battuta 3-0 l'Andorra ma vince anche la Serbia c'è bisogno di un altro punto quindi i ragazzi di Di Biagio con la foto che va a pescare Cerri l'attaccante che condivide la maglia della Spal con Alex Meret dovrà aspettare per la qualificazione poi abbiamo anche appunto la partita tra Udinese e Juve che sarà la partita inaugurale del trofeo Rocco mercoledì 14 tutto nel segno di Udinese e Juve visto che anche il campionato primavera ve lo ricordiamo partirà venerdì prossimo con questo grandissimo Udinese e Juve che andremo ovviamente a seguire con non con le nostre telecamere perché sarà una in realtà Sport Italia lo trasmetteremo in differita ma sarà comunque una partita che dirà già tanto della stagione dei bianconeri giovani di Mattiussi noi speriamo che possano certamente fare il meglio in assoluto ancora altre notizie relative all'Udinese Coombs Gazzettino sono pronto alla sfida con il Milan ieri ripresa degli allenamenti per i bianconeri con Samir fuori combattimento il tecnico Iachino approvato in difesa Armero questo è per quanto riguarda le notizie di campo tornando a Coombs ha detto Amira Pirlo e Iniesta ma si paragona Johan Valem proprio ovviamente per anche doveri di nazionalità dopo Johan Valem David Pizarro e Gaetano D'Agostino l'Udinese dispone di un altro mediano metodista dai piedi morbidi è in grado di dettare i tempi di gioco e favorire un calcio propositivo di qualità Sven Coombs 28 anni l'ultimo acquisto bianconero in ordine cronologico è arrivato la scorsa settimana in Friuli proveniente dal Ghent con la mediazione del Watford ha già convinto società Iachini compagni e tifoseria il belga pare essere l'elemento ad hoc per consentire all'Udinese di riscattare le ultime due negative stagioni il centrocampista ieri ha parlato proprio nella conferenza stampa questa è una foto della sua presentazione ha parlato ovviamente in lingua madre in francese poi però pian piano arriverà il suo adattamento magari anche qualche parola in italiano vi siamo debitori di qualche parola di Sven Coombs che ha parlato di tante cose ha parlato come detto anche dalla Gazzetta dello Sport di come dovrà anche far crescere i giovani è una tematica ovviamente di primo piano in questa stagione dell'Udinese sentiamo proprio le parole del protagonista di Sven Coombs sì sicuramente con la mia esperienza sento di dover dare sicuramente qualcosa di più come avete ben detto la squadra è giovane quindi devo aiutare devo fare tutto il possibile affinché i miei compagni più giovani possano tirare fuori le loro migliori qualità e devo dire che questa è una delle mie caratteristiche principali delle mie caratteristiche principie cioè quello di far sì che i miei compagni di squadra possano dare il meglio ripeto che sono molto molto contento di essere qua e farò tutto il possibile per fare meglio per lavorare il meglio possibile e poi del futuro ne parleremo l'anno prossimo per il momento voglio fare quello che voglio dare il meglio di me qua mi trovo molto bene il mio inserimento è stato molto facile i miei compagni di squadra mi hanno sostenuto mi hanno aiutato in tutti i modi possibili e poi devo anche dire che non sono più così giovane quindi è stato forse più facile l'adattamento quindi sicuramente i miei compagni mi hanno molto aiutato ma anche il fatto che appunto non sia più abbia più esperienza mi ha sicuramente aiutato ad adattarmi più facilmente da un punto di vista tecnico trovo che la squadra che è l'Udinese sia una squadra molto tecnica e molto forte da un punto di vista tecnico ci sono dei giocatori dei buonissimi giocatori da questo punto di vista ma non credo che la tecnica sia sufficiente c'è sicuramente bisogno di motivazione e anche la tattica nel complesso gioca un ruolo sicuramente molto importante si parla di giocatori bianconeri si parla anche di attaccanti bianconeri ex e attuali sul gazzettino con in serie B pensate la notizia che la SPAL potrebbe tentare Totò Di Natale che vorrebbe ancora giocare i segnali arrivano non solo dal fatto che sabato l'ex capitano bianconero ha fatto questo selfie mentre provava a tenersi in forma ma domenica pomeriggio o meglio domenica sera se non erro perché si è giocato di sera al Mazza di Ferrara era lì Totò Di Natale pescato anche dalle telecamere Sky e insomma in tanti si sono chiesti cosa facesse a Ferrara vista comunque la sua vicinanza con Empoli magari con città toscane ma a Ferrara non era atteso e chissà che non potremmo testimoniare un'altra notizia proprio di un nuovo anche di una nuova avventura per Totò Di Natale la teniamo in stand by quella che è la curiosità che ci aveva già anticipato lo stesso Stipe Perizza nell'intervista in Mixed Zone c'è un quasi derby con Pascialic nella partita contro il Milan entrambi croati entrambi ex Chelsea con i due che sono entrambi nella scuola dell'Aiduc Spalato eccolo qui Pascialic che è stato l'ultimo acquisto del Milan è stato molto carino nel descrivere questa amicizia proprio Stipe Perizza ha detto siamo come fratelli perché ci siamo praticamente imbarcati nello stesso aereo per andare a Londra poi le strade che si sono divise in qualche modo si ritroveranno in questo Udinese Milan ci fa davvero piacere sottolineare anche questa storia di calcio extra calcio tra proprio i due ragazzi Perizza e Pascialic poi in Lega Pro ha parlato Lovis il presidente del Pordenone ha detto siamo dai primi tre posti mentre aspetta le due tribunette per il Parma nel frattempo arriverà sabato il terramo dell'ex Lambertone Zauli che ha detto Lovis ha detto di Zauli meritava un altro mese di rodaggio ma a volte abbiamo imparato che il calcio non ti lascia il tempo di aspettare proprio quelle che sono i risvolti i suoi nemici chiedete a Mateos ha detto proprio anche Lovis a conclusione di questa sua intervista al Gazzettino Lovis che ovviamente vuole i primi tre posti in un campionato particolarmente difficile da condividere con squadre del calibro di Parma e Venezia c'è spazio anche per le Paralimpiadi perché stanno per iniziare praticamente le Paralimpiadi 2016 di Rio de Janeiro il vero sport senza barriere 4300 atleti diversamente abili da 176 nazioni Zanardi Caironi Vio e Versace sono le stelle dell'Italia qui riassunte proprio per quelle che sono le discipline olimpiche che andranno a effettuare in totale come abbiamo detto sono 101 con davvero tanti atleti pronti a questa spedizione in Brasile cresce la prevendita 400 ore di tv sui canali Rai davvero persone che non esitiamo a definire speciali che nonostante le grandissime difficoltà compiono delle discipline davvero eccezionali ci regalano anche grandissime emozioni quindi ci vuole anche il massimo della passione qui proprio dall'Italia e le seguiremo sempre Pancalli ha detto miglioreremo Londra 2012 per il presidente del movimento paralimpico l'obiettivo è risalire nel medagliere e quindi questa è la speranza proprio del numero uno dello sport paralimpico in Italia leggiamo anche in chiusura quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali a cominciare da un'inchiesta della gazzetta strapagati nel punto di domanda quasi un miliardo per 500 giocatori e la cifra crescerà gli ingaggi lordi crescono arrivando a 985 milioni Iguain nuovo re di denari ha superato De Rossi Allegri e Icardi strapagati questo appunto è quello che si chiede la gazzetta dello sport poi si parla del nostro prossimo avversario il Milan in spalla arrivati i soldi il Milan cinese li spenderà così dice la gazzetta sino a Europe ha pagato lì Hong Kong ha detto torneremo tra i migliori al mondo a gennaio 100 milioni sul mercato poi Calciopoli bocciata la richiesta della Juve al risarcimento che non ci sarà per la questione 2006 poi Under 21 di Francesco Junior doppietta tutto facile con Andorra ma come dicevamo prima bisognerà aspettare almeno un altro punto regia personalità e gol così Verratti e Pellet si sono presi la nazionale poi Sneijder che salva l'Olanda Portogallo in Svizzera Francia frenata 0-0 poi il duro sfogo di un baby Lazio tutto per gli stranieri noi italiani siamo maltrattati questo è quanto ha detto proprio un giocatore della Lazio agli stranieri danno tutto noi italiani no veniamo trattati come M punti puntini ha detto proprio il giocatore della Lazio insomma una questione che sta facendo tanto tanto discutere anche sulla prima pagina gazzetta si parla delle Paralimpiadi da non perdere con tanta Italia ovviamente l'emblema del movimento paralimpico è lui Alex Zanardi che nel Land Bike prova ancora a fare risultato e giustamente Fausto Narducci dice loro sono atleti con qualcosa in più poi Tennis US Open la Vince legge 50 minuti poi purtroppo crolla ma non mi sento delusa Vince che ci aveva regalato grandissime emozioni nella scorsa edizione degli US Open presidente del Coni Malagoi giochi 2024 a Roma o c'è il sì del comune o niente questa ovviamente è una polemica legata alla nuova amministrazione comunale della capitale poi Casa Gazzetta da Belenna Misano ecco Iannone sono uno che non si accontenta e il Nupo e Nicolai nel beach volley fanno decollare il movimento con il loro argento che davvero è stata una delle medaglie non ce ne vogliono le altre più emozionanti dell'Italia nonostante non sia stata quella di metallo più pregiato poi c'è un'intervista esclusiva a Mancini sul Corriere dello Sport che andiamo velocemente a leggere con un peccato che sia finita ci siamo lasciati bene ma non accetto che si discuta la nostra preparazione estiva la Juve vincerà il titolo solo Ibra Iaia Touré potevano cambiare la corsa allo scudetto il Napoli ha investito su Baby Top mi dispiace che Totti smetta ora avrei voluto allenarlo ma diventa difficile salvo un arrivo in panchina a breve di Mancini su quella della Roma poi Milan è coloro cinese 350 milioni in tre anni sono davvero delle grandissime cifre e infatti c'è un Montella sorridente anche se bisognerà resistere ancora qualche stagione per vedere tutti questi soldi e infine chiudiamo con tutto sport il quotidiano di Torino un di bala tira l'altro pronti i rinnovi a Leminar Rugani e Sturaro mentre Marotta intensifica la ricerca dei talenti che dovranno garantire il ricambio di fenomeni di oggi Berardi Dahu e Tielemann nel mirino della società questo ha detto proprio Marotta o meglio non ha detto Marotta ma sono in discrezione di mercato che filtrano e quindi c'è speranza di trovare il nuovo Di Bala poi il Toro che torna in campo lo guida Hart proprio lui primo allenamento per il portiere della nazionale inglese poi abbiamo l'Ira di Jovetic contro l'Inter sono deluso dopo l'esclusione dall'Europa l'ha detto dal ritiro della nazionale montenegrina Italia Under 21 di Francesco che magie l'Under vola e poi le Paralimpiadi stasera il via Vittorio Podestà ha detto le mie braccia da Formula 1 come detto tanta attesa per le Paralimpiadi che sono pronte a iniziare infine due notizie in taglio alto con il Tar che ha deciso di non decidere niente possibile rimborso dei danni alla Juventus per la questione calciopoli e poi Berlusconi che lascia ai cinesi 85 milioni e ciao Berlusconi arrivati i soldi cinesi dovrebbero essere lo ripetiamo 350 milioni in tre anni al momento e ripetiamo anche questo non ci interessa quello che succederà nei prossimi tre anni al Milan ma quello che succederà domenica quando affronterà l'Udinese questa era anche l'ultima notizia proprio della nostra rassegna stampa sportiva che si chiude qui a me non resta che augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare sempre in nostra compagnia qui sull'Udinese TV Grazie a tutti